Ciao a tutti, sono Giulia, ho 26 anni e sono vegan da quasi 11 anni. Ho scelto di aprire questo canale YouTube perché seguo molti YouTuber stranieri che fanno attivismo, grazie a YouTube, e vedo che con il loro esempio, visto che parlano di tematiche come antispecismo e diritti degli animali, molte persone hanno accesso a informazioni che quando io ero adolescente non avevo, e mi sarebbe molto piaciuto averle. Quindi è questo quello che vorrei che fosse questo canale, uno spazio per raccontare cosa sono i diritti animali e perché così tante persone, io per prima, hanno scelto di non nutrirsi più di animali. Quando avevo 16 anni cercavo molte di queste informazioni in rete e non era possibile, mentre invece ora per tutti è possibile vedere cosa succede in un macello piuttosto che in un allevamento o in un laboratorio di vivisezione. E questa realtà io la sognavo, giorno e notte, ogni giorno. E quindi niente, ci vediamo in un prossimo video dove tratterò una di queste tematiche. Ciao!